Salve amici del Centro Meteo Italiano, settimana con clima fresco e tempo instabile, ma per l'ultimo weekend di giugno il caldo dovrebbe tornare a farsi sentire. Prossimi giorni con una goccia fredda sul Mediterraneo centrale, la quale porterà condizioni meteo instabili in Italia e manterrà anche le temperature in media o poco sotto. Nella seconda parte della settimana tempo che dovrebbe farsi più stabile con la progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico. L'ultimo weekend di giugno dovrebbe vedere una nuova ondata di caldo africano con temperature che si riporterebbero anche di 10 gradi sopra media. Ondata di caldo che appare comunque veloce per un modello europeo che per l'inizio di luglio ipotizza l'arrivo di una nuova saccatura fresca. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometrio Italiano.